Bene, volevo aggiornarvi un momentino su quelle che sono le ultime novità del canale. Ho letto integralmente lo Zibaldino ed è una lettura che io ho trovato molto simpatica, anche edificante in un certo senso, perché mi ricorda il mondo, mi riporta al mondo della mia infanzia con quelli che erano i rapporti che io trovo più semplici che esistevano a quell'epoca, direi anche con una certa nostalgia, anche con la scoperta di un humor, di un'ironia semplice, ma intelligente. E quindi l'ho letto con un certo piacere. Purtroppo non lo posso postare per intero, per il solito motivo del copyright, sul mio canale di YouTube, però l'ho letto integralmente e l'ho postato su una mia nuvola privata. Per cui chi volesse ascoltarlo mi scriva, lo può ascoltare ovviamente gratuitamente. Poi ho letto in una settimana che ho fatto di vacanza, in un ambiente dove purtroppo, insomma, anche quando si va in montagna, in collina, in un posto che si ritiene tranquillo ormai non ci si può liberare da quelle che sono delle presenze ossessionanti, dei motori, dei tagliaerba, di varie forme e dimensioni, dei trattori che passano e dei cani che abbaiano. Presenze che ormai sono ossessionanti dovunque si stia, sia quando me ne sto a casa che quando sto in montagna. E questo quando si legge si vorrebbe nel silenzio. E insomma, è una cosa che disturba, deconcentra. Ma insomma, ho letto questo libro bellissimo e ho postato, spero che vi piaccia, di Fernando Pessoa. Grande libro che secondo me trova una sua valorizzazione nell'essere letto e quindi nell'essere ascoltato, cioè nel diventare audiolibro. Opera estremamente originale, particolare, su cui tanti hanno detto, insomma, poeta che per fortuna incontra, piace molto, insomma, anche a distanza. Poeta assolutamente unica, originale, di cui è difficile trovare traccia prima di quella poetica. Dopo, forse, alcuni si sono ispirati a lui, insomma, hanno cercato di, come dire, almeno di far tesoro della sua opera. Opera strana, opera particolare, questa di, questa del libro dell'inquietudine di Bernardo Suárez, un suo pseudonimo, insomma, perché lui scrive inventandosi, addirittura la biografia del personaggio che scrive, è come se lui fosse un altro, insomma, ne costruisce l'esistenza, tutte le tappe della biografia e e quindi ha anche il pensiero. È un'opera unica perché è un misto, secondo me, di poesia, prosa e filosofia. C'è molto pensiero, insomma, in questa opera. Molta riflessione, è costruita anche qui, come uno zibaldone, come uno zibaldone. E questo mi ricorda poi lo zibaldino, no, di Guareschi, che poi credeva di aver fatto per primo lo zibaldone di Leopardi. Ma, insomma, è scritta come uno zibaldone, nel senso che è una raccolta di pensieri che si susseguono nel tempo, pensieri anche molto brevi e pensieri anche invece più lunghi, insomma, più articolati. A volte con le caratteristiche anche dell'aforismo, insomma, che si susseguono nel tempo. A volte anche senza un legame tra di loro. E quindi riflessioni, riflessioni che sono soprattutto introspettive, insomma, sul personaggio si interroga su se stesso, sul perché pensa in quel modo e riporta i suoi pensieri, le sue impressioni, il suo mondo interiore, continuamente stimolato dall'esterno, ma con un'attenzione soprattutto al proprio io, al proprio sentire, alle ragioni del proprio sentire. E la scrittura è assolutamente, che ne deriva è assolutamente eclattante, insomma, di una bellezza eccezionale, insomma. Perché? Perché lui riesce a trovare delle forme espressive, in cui bisogna così elogiare anche la traduzione, insomma, che riesce in qualche modo a rendere, delle forme espressive ricche di metafore, di similitudini strane, in cui mette insieme tantissime cose, mette insieme colori e sensazioni diverse, mette insieme la materia e lo spirito, mette insieme cose che noi non siamo abituati a far stare insieme, no? A lanciarci dei segnali che guardano in un mondo che lui costruisce dall'interno, cioè riesce a costruire un mondo suo, che ci fa intuire, ma che è difficile da descrivere, perché è un mondo assolutamente nuovo, che va oltre i valori che siamo stati abituati con la nostra cultura a considerare, su cui formiamo spesso la nostra vita. Insomma, riusciamo a trovare il suo scritto a intravedere qualcosa che non c'è, che noi non abbiamo mai visto, insomma, però che percepiamo che ci sia. È come se, come dire, intuissimo l'esistenza dei virus, dei microbi, ma non li avessimo mai visti, e per vederli abbiamo bisogno del microscopio, magari del microscopio elettronico, per vedere i virus, e lui mette a disposizione il suo microscopio, e noi intuiamo un mondo altro, un mondo che in qualche modo ci affascina, perché lui lo descrive con questa intensità, ce lo fa intravedere, ma è assolutamente altro, è difficile concretizzarlo, e ci rimangono queste immagini, queste immagini della mente, queste immagini della fantasia, queste immagini di questo mondo di sogno che lui costruisce, perché la realtà del sogno è molto più importante della realtà vera, e quindi ci prende in queste continue riflessioni, che non hanno una continuità, non portano da qualche parte, insomma, cominciare a leggere in un punto, non è che poi ci fa arrivare da un'altra parte, ogni riflessione è uno stato a sé, per cui, insomma, questo libro si può leggere cominciando da dove si vuole, o si può ascoltare cominciando da dove si vuole, perché non c'è un filo conduttore unico, il filo conduttore è questa continua, insistente penetrazione nel mondo psicologico di questo personaggio che riesce a riflettere su tutto, anche sulle cose più insignificanti, a riportare, a descrivere i suoi ricordi, le sue sensazioni, le sue emozioni di un momento, ma esprimendole con figure, con un linguaggio assolutamente unico, assolutamente eccezionale, che ci lascia a bocca aperta ogni volta che lo ascoltiamo, e quindi possiamo cominciare a lasciarci andare all'ascolto di questa opera, alla lettura, per chi la vuole leggere, ma insomma ci possiamo anche mettere sdraiati, ad occhi chiusi, ad ascoltare questa lingua, queste immagini, questi ossimori, queste similitudini uniche, particolari, che si portano in un mondo che lui riesce a farsi intuire, e quindi percepiamo che oltre il nostro mondo, il nostro modo di esistere, il nostro modo di pensare, la nostra mente calcolante, esiste forse immediata anche o stimolata dal suo disadattamento alla vita reale, esiste anche un altro mondo fatto di sensazioni, di emozioni, ma un altro mondo che potrebbe essere possibile, ma che non lo riscontriamo nella realtà, lo riscontriamo nel sogno, e come lui questi sogni, questa realtà sognata ce la riesce a rappresentare con la lingua, e quindi scopriamo nella lingua, nel linguaggio, nella letteratura, una possibilità, uno strumento di costruire realtà che è unico, che ci affascina, insomma, e quindi bisogna ascoltare per capire tutto questo. Ecco, quindi per so il libro dell'inquietudine, è postato in un unico file, letto integralmente, l'ho letto stando in montagna, quindi non in uno studio, insomma, con quelli che sono, appunto, i disturbi che anche lì ci sono, purtroppo, insomma. Però, insomma, credo che si capisca, leggendolo ho cercato di farlo una lettura mettendomi nei panni di questo personaggio che parla di sé ossessivamente, insomma, no? Questa telecamera continuamente rivolta dentro se stesso, e quindi, diciamo, cercando di essere lui e di dire quello che è tirar fuori, come lui tirerebbe fuori queste cose, non tanto preoccupandomi della tecnica espressiva, quanto del modo di esprimere, della voce interna, insomma, che questo personaggio continuamente dice. E quindi questo è stato anche il lavoro più importante, secondo me, degli ultimi giorni, insieme anche a due brevi letture e racconti di Turgenev, che anche vi consiglio, insomma. Poi, sto cercando in questo momento di, come dire, di sistemare anche un po' di materiale vecchio. Sto cercando di, che faccio in continuazione, di migliorare un po' la qualità audio man mano che magari riesco a maneggiare con un programma nuovo dal punto di vista del software. E quindi vorrei cercare di mettere anche in un unico file i grossi libri che ho letto in passato, insomma, no? Allora sto cominciando un po' con i Promessi Sposi, mettendo in un unico file Moby Dick ugualmente e posterò man mano, ma in un breve spazio di tempo l'uno dall'altro. E poi andando a Dostoevsky, insomma, no? Cominciando con L'Idiota e andando avanti con gli altri grossi romanzi di Dostoevsky e posterò, perché ho già letto anche altre piccole cose nuove, racconti più brevi, ma non brevissimi, insomma, tipo Povera Gente, queste cose qua che ho letto anche abbastanza di recente. Poi torno a dire che, insomma, io sono contento, insomma, si calcola i due canali, uno ha raggiunto i mille iscritti, l'altro ne ha più di 21.000, quasi 21.500, quindi siamo a 22.500 iscritti. Insomma, ribadisco che se ci sono questi iscritti in questo canale e continuamente ricevo delle mail di supporto per il lavoro che viene fatto, ecco, vuol dire che qualcosa arriva, che questo lavoro forse non è del tutto inutile, anche se lo so, ma lo so da me che non sono, che so io, il massimo dei narratori, che probabilmente ci sono dei difetti nel mio modo di narrare. Ma so anche, perché me lo dite voi, che chi ha voglia di raccogliere quello che viene narrato, ecco, per questi che hanno voglia di raccogliere, arriva, cioè, è una narrazione, la mia, che riesce, insomma, a far capire il messaggio del libro, almeno nella gran parte dei casi. Poi c'è sempre quello che si ostina a, sono pochissimi per la verità, ma che si ostina a farmi notare che ci sono delle cose. Allora, siccome le so, ormai è esasperante, ho fatto decine di video in cui dico queste cose, basta! Ah, uno strumento importante è quello di non guardarmi, non guardare i miei video. Inutile che si ostini a dire che lo zanardi trascina i finali, non lo so, che è monotono, perché per alcuni sono monotono, per alcuni sono troppo espressivo. Insomma, ognuno si fa un suo stile, quello piace o non piace. Ma basta! Basta mandarmi! Poi, insomma, è sempre qualcuno che mi dice queste cose qua, ma più o meno è sempre lo stesso, si veste da fake, non ha una faccia attraverso la quale dire questo, per lo più. Siccome ho messo qualche video su Audible per capire un pochino cosa succede in quel mondo, e anche magari ne parlerò, perché è un mondo, anche questo, molto furbo, in cui alla fine chi posta è sempre più, come ho detto un'altra volta, un servo della gleba, dove si fa una guerra tra poveri e dove invece i ricchi non fanno il lavoro sporco, insomma, e invece guadagnano sul lavoro degli altri. Ma anche lì, per esempio, c'è uno che appena arriva un mio audiolibro gli mette una stella, ma guardandosi bene dal mettere una stella anche per quello che riguarda la valutazione libera. Voi sapete che su Audible ci sono due criteri, insomma, due modi ogni volta che si fa una valutazione, che si mette una stella su quell'audiolibro e si fa la media, insomma, tra la voce del narratore, tra quello che è il narratore, come è narrato, e tra la qualità del libro, insomma, il libro. e quindi si mette un certo numero di stelle per la narrazione, un certo numero di stelle da una a cinque per il libro. Ecco, questo qui, e lo fa, l'ha fatto per tre, quattro dei miei libri, appena escono, ovviamente non li ascolta, ma mette una stella soltanto per quello che riguarda il narratore, per evitare anche di fare media, insomma, quindi si capisce che ce l'ha con me. E io mi chiedo, ma che cavolo gli ho fatto? Cosa è successo? E mi convengo sempre di più che quando si fa una cosa, diciamo, gratuitamente, si entra in conflitto con un mondo del capitale per cui le cose gratuite sono l'offesa maggiore che si può creare. Insomma, il nemico per il mondo del capitale è chi fa qualcosa in maniera gratuita perché mette in discussione una logica, ma mette in crisi un sistema consolidato di scambio economico e convinco che al di là della qualità di quello che faccio, che può piacere o non piacere, ma se piace a 22.000 persone e queste persone mi confermano il loro gradimento nei messaggi e nelle cose e soprattutto mi confermano di trovare utilità da quello che faccio. Insomma, io sono contento e continuo anche a farla. Ma è soprattutto questo aspetto, l'aspetto della gratuità, insomma, del non pianificare, ai fini economici un'attività che si fa al massimo, insomma, come fa a volte, insomma, di chiedere un piccolo contributo, ma del tutto volontario, è minimo, insomma, mi piacerebbe appunto che ogni tanto qualcuno mi desse un euro per testimoniare con un euro che ha valore quello che si fa, no? Che hai apprezzato, insomma, cioè un apprezzamento anche di tipo simbolico, come dire, è una testimonianza, è una testimonianza di valore di quello che fai. Però, insomma, ecco, questa riflessione che quando si fa qualcosa in maniera, beh, non dico disinteressata, perché le mie gratificazioni le trovo, insomma, passo il tempo, passo una cosa che in qualche modo mi piace e quindi indirettamente ho una mia gratificazione. però è disinteressata per quello che riguarda una pianificazione economica, insomma, un lavoro fatto progettualmente, insomma, no, per arrivare a farne una professione, ecco, cosa che io non faccio. Ma proprio questo, secondo me, è qualcosa che disturba. penso che ci siano cose fatte pezzo di come le faccio io su YouTube, insomma, ma io non metto mai non mi piace, insomma, non vado, ognuno è libero di fare quello che vuole, lo fa, a qualcuno piace sempre, magari, no, e quindi lo fa. Perché devo andare a mettere non mi piace? non guardo semplicemente quello che non mi piace, che non mi interessa, insomma, che non lo guardo. Ho questo strumento, insomma, no, la televisione, c'è il telecomando, qui c'è il mouse, non so, si clicca da un'altra parte, si va dove si vuole, poi, insomma, ecco, poi quando si mettono dei commenti che sono sempre anche un po' offensivi, insomma, no, di una valutazione che a volte non corrisponde, oppure come su Audible, insomma, si fa una una manovra che è invece decisamente, insomma, di ostile chiaramente rivolto a te, insomma, no, perché non lo fai una volta per caso, insomma, lo fai e insomma, lo fai per partito preso, hai individuato un nemico e quel nemico lo vuoi colpire con le armi che hai a disposizione, insomma, in questo caso sono le stelle, ma anche qui in tempi non sospetti, insomma, anni fa ho cercato di dire sempre in un video come per me le cose di valore e a volte le cose più interessanti e più stimolanti sono quelle che vedo trattate in maniera estrema dalla critica, insomma, dai lettori nel caso dei libri, insomma, quando si va sui pareri dei lettori, ecco, mi stimolano sempre molto di più i libri che hanno cinque stelle per esempio e una stella, no? Proprio perché come dire, se una cosa è interessante c'è chi la capisce e c'è chi invece è disturbato da questa cosa e allora poi insomma sono più curioso di andare a vedere se effettivamente questa cosa è interessante e non capita oppure è veramente uno schifo però se è veramente uno schifo in queste stelle le danno in pochi insomma, ecco, insomma, spesso chi dà una stella sul libro è perché non non l'ha capito insomma, d'altro, insomma, mica tutti siamo capaci di capire tutto insomma, ci mancherebbe insomma. Un saluto!